carissimi pace pace del signore buona giornata oggi è tra dicembre e con l'aiuto del signore leggeremo nel libro di gesù e al capitolo 21 i primi 26 versi è un passo interessante questo perché ci ricorda il comandamento che dio aveva dato a mosè e di cui troviamo traccia nel capitolo 35 del libro dei numeri in pratica il signore aveva stabilito che i leviti ai leviti scusate dovevano essere date 48 città con i rispettivi contadi sei delle quali sarebbero state adibite a città di rifugio dare quindi è il tema di questo passo ed è un imperativo anche per noi cristiani perché come cristiani siamo chiamati a dare in modo generoso o senza calcoli e gratuitamente perché gesù l'ha detto gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente dovete dare lo troviamo in matteo capitolo 10 al verso 8 il popolo di israeli infatti aveva ricevuto gratuitamente la terra promessa ed ora erano chiamati a donare delle città ai loro fratelli i leviti i quali non avevano diritto ad alcuna proprietà proprio perché erano stati chiamati a svolgere un servizio sacro gli israeliti non si dimostrarono gelosi delle proprietà che avevano appena ricevuto ma ubbidirono con prontezza al comandamento del signore e questo è un bel esempio di come ogni credente dovrebbe comportarsi per essere un araldo della buona novella dimostrandosi generoso nei confronti dei fratelli ciò che abbiamo infatti è un dono che abbiamo ricevuto dal signore e deve essere amministrato secondo i principi della parola di dio e di ancora oggi ci chiama a dare a dare senza riserve le tribù che dovettero donare le città non si ribellarono all'eterno e dio ci chiama ad essere ubbidienti a donare con tutto il nostro cuore perché dio ama un donatore allegro dare dare naturalmente nella misura con la quale abbiamo ricevuto perché anche questo insegnamento ci viene dato dalla lettura di giosuè ancora prima del capitolo 35 dei numeri a volte il signore ci benedice in un modo particolare e la nostra reazione nei confronti delle persone che stanno attorno a noi non deve essere di indifferenza ma deve essere proporzionata alla benedizione che abbiamo ricevuto come un'anfora che non viene svuotata non può essere riempita così noi credenti se non riversiamo sul prossimo il frutto delle benedizioni che abbiamo ricevuto non possiamo essere pronti per ricevere delle nuove benedizioni che il signore ci vuole donare tutte le nostre energie devono essere volte verso il dare perché vi è più gioia nel dare dirà l'apostolo paolo nel ripetere delle parole di gesù che nel ricevere e dio ci aiuti a donare innanzitutto il nostro cuore al signore perché una volta che dio ha il nostro cuore egli potrà avere anche la disponibilità della nostra persona questo ci porterà a donare il tempo al signore abbiamo diritto a lavorare anzi abbiamo il dovere di lavorare di prenderci cura della famiglia abbiamo il diritto di avere del tempo per lo svago ma abbiamo anche il dovere di impegnare una parte del tempo che abbiamo a disposizione nel servire il signore e quanto è prezioso e quanto è fonte di benedizione quel tempo impegnato per la gloria di dio dare dare il nostro tempo dare le nostre energie nostri talenti al signore affinché egli possa usarli per il progresso del regno di dio dare un messaggio che sicuramente oggi ha poco successo perché siamo tutti impegnati a chiedere a pretendere delle volte questo atteggiamento si riverbera anche nel nostro rapporto con dio non sappiamo più adorare il signore non sappiamo più disporci a servire il signore sappiamo soltanto chiedere fare una bell'elenco della spesa presso il trono della grazia di dio e ci aspettiamo che tutto ci venga recapitata a casa così come avviene oggi con le nuove piattaforme di vendita magari nella grazia se abbiamo realizzato veramente la grazia di dio prima ancora che pretendere dobbiamo essere pronti a dare a donare e anche le risorse finanziarie che il signore ci provvede dio ci dia grazie di saperlo usare con sapienza con intelligenza e con avvedutezza e se dio ce lo mette nel cuore facendoci vedere la necessità che c'è nell'opera di dio o doniamo per l'opera di dio per sostenere quanti lavorano a tempo pieno nel suo campo per dare un aiuto a coloro che vivono in terre povere dove non c'è neanche un piatto da consumare o magari non ci sono le possibilità di poter avere un luogo di rifugio una casa un tetto dove potersi riparare diamo fratelli e sorelle perché dio saprà come benedire in modo abbondante la nostra vita non preoccupiamoci se noi cerchiamo prima il regno di dio e la sua giustizia egli saprà come ricompensarci e come riversare su di noi molto più di quello che noi diamo al signore sì perché ancora oggi dio sa andare al di là di quello che noi possiamo immaginare e se in questa mattina ti rendi conto che finora il tuo rapporto con il tuo rapporto con i fratelli con le sorelle è stato improntato al ricevere che dio possa aiutarti aiutarci insieme a entrare nell'ottica che è venuto il tempo anche per noi di dare perché dio si aspetta che siamo pronti a offrire noi stessi a lui che ci ha dato il suo nigenito figlio affinché non periamo ma possiamo avere vita eterna la grazia di dio la sua pace il suo amore la sua presenza ci accompagnano ancora oggi dio ci benedica insieme